La Greenway del Calatino, benvenuti al parco lineare attrezzato, meglio conosciuto come pista ciclabile, che collega Caltagirone con San Michele di Ganzaria. Insignito il progetto di premi internazionali, quali la medaglia d'oro dell'architettura italiana, opera che non ha mai funzionato un solo giorno, è qualcosa di vergognoso. Abbiamo visitato il parco lineare, abbiamo visto che ci sono dei posti che sono diventate delle vere e proprie discariche di materiali inerte, addirittura con presenza di Eternit, un ponte che è pericolante, delle parti in cui non esiste più il manto stradale. Opera pubblica questa, realizzata a fine anni 90 con i fondi comunitari del patto territoriale del Calatino, costata allora 8 miliardi di lire, oggi tradotti in 4 milioni di euro. Rifondazione Comunista rilancia la questione, ritenendo immotivata l'ulteriore scelta politica di richiedere ulteriori finanziamenti pubblici ai fini del completamento di quest'opera. Io ritengo che tutto questo non sia accettabile per una comunità che ha già speso milioni di euro e che continua a chiedere finanziamenti per il completamento dell'opera senza che i cittadini ne abbiano mai avuto una ricaduta. La segretaria cittadina di Rifondazione Comunista ha denunciato degrado, incuria e inutilità di una struttura che non ha mai funzionato un giorno. Paradossale sembra la richiesta di ulteriori finanziamenti da parte del Comune di Galtagione, da parte del Comune di San Michele di Gansaria per il completamento dell'opera.